Era molto piacevole trovarsi nel giardino della Canonica. L'Inquilterra intera si stava godendo un improvviso periodo di tepore autunnale. L'espettore Credoc non riusciva mai a ricordare se si trattasse dell'estate di San Martino o piuttosto di San Luca. Ad ogni modo sapeva che era quanto mai gradevole e forse induceva anche in una certa indolenza. Era sprofondato in una sedia a sdraio che gli aveva offerto una energica cc in partenza per la riunione delle mamme, ben protetta dagli scialli e da una larga coperta sulle ginocchia. Miss Marple era seduta accanto a lui e sferruzzava. In tepore del sole, la pace, il tichettio ritmico e uniforme degli aghi da calza di Miss Marple, tutto contribuiva a dare una sensazione di pigrizia e di sonnolenza all'ispettore. Ma al tempo stesso una sensazione di incubo continuava a perseguitarlo. Si trattava di qualcosa di simile a un sogno familiare nel quale un sottofondo di minaccia comincia a crescere e si fa sempre più forte ed infine trasforma la serenità in terrore. E scotendosi disse bruscamente, non dovreste essere qui. Gli aghi da calza di Miss Marple smisero per un momento il loro tichettio, i suoi placi di occhi azzurro vivo lo fissarono pensosi. Capisco quel che volete dire, rispose, siete un ragazzo molto coscienzioso, ma tutto va per il meglio. Non c'è da preoccuparsi. Il padre di Cici è stato il nostro parroco, un merito studioso, e sua madre è una donna straordinaria, ricchissima di spiritualità. Sono miei vecchi amici. È la cosa più naturale del mondo che, trovandomi a Madenam, sia venuta sua ospite per qualche tempo. Oh, può darsi, rispose Credoc, ma non andate a ficcare il vostro naso in giro. Ho la sensazione, parlo sul serio, che non sia prudente. Miss Marple abbozzò un sorrisetto. Temo proprio, disse, che sia proprio il debole di noi vecchiette quello di andare in giro a curiosare. Sarebbe molto strano se non lo facessi. Salterebbe subito all'occhio. Come per esempio fare certe domande sugli amici comuni che vivono in lontani paesi del mondo e chiedere se ricordano tizio o caio, oppure se hanno mai saputo, per esempio, il nome del giovanotto che la figlia di Red Ital de Italia ha sposato. Tutto serve, non vi pare? Serve? Disse l'ispettore un po' perplesso. Serve a scoprire se le persone sono proprio quel che dicono di essere. Continuò Miss Marple. E poi, perché è proprio questo che vi preoccupa, vero? E effettivamente è sotto questo aspetto in particolare che il mondo è cambiato dalla fine della guerra in poi. Prendete questa piccola comunità, per esempio, Shipping Clagorn. Assomiglia moltissimo a St. Mary Mead, dove io abitavo. Quindici anni fa tutti sapevano con sicurezza chi fossero i loro vicini. Di Hertel e Price Ridley a Weatherby. Erano persone in cui i genitori e i nonni, oppure gli zii e zie, avevano vissuto lì, in quel villaggio, prima di loro. Se ci arrivava qualcuno di nuovo con l'intenzione di stabilirsi nel villaggio, portava qualche lettera di presentazione, oppure aveva combattuto nello stesso reggimento, o era stato imbarcato nella stessa nave con qualcuno che già vi abitava. Se arrivava qualcuno di nuovo, ma nuovo, proprio nuovissimo, un completo sconosciuto, insomma, beh, spiccava sempre fra gli altri. Si faceva notare e tutti si chiedevano chi fosse e non si tranquillizzavano finché non lo avevano scoperto. Fece segno di sì con la testa, garbatamente. Adesso non è più così. Ogni villaggio, ogni piccola località di provincia, è piena di persone che ci sono appena arrivate e hanno deciso di stabilirsi in quel luogo senza alcun legame precedente o alcuna conoscenza sul posto. Le grandi ville sono state vendute, i villini, le casette di campagna, sono state ristrutturate e trasformate. Così qualcuno arriva e tutto ciò che si può sapere di loro è quanto raccontano di se stessi nient'altro. Perché, vedete, arrivano da ogni parte del mondo, vengono dall'India e da Hong Kong e ci sono anche persone che prima abitavano in Francia o in Italia, in piccole località modeste oppure in isole che nessuno ha mai sentito nominare. E poi ci sono anche quelli che hanno messo insieme un gruzzoletto e hanno potuto permettersi di andare in pensione. Ma nessuno riesce più a sapere qualcosa su questi nuovi venuti. Si faceva notare...